Se non mi sbaglio devo parlarti un po' della mia esperienza a Tel Aviv. È stata naturalmente molto interessante perché non ero mai stata in questa zona, non avevo mai avuto rapporti con gli serigliani, eccetera. È stata tutta una scoperta interessante, con persone intelligenti e che hanno risposto con vera cordialità. A Tel Aviv sono andata perché dei miei clienti, per i quali avevo fatto una casa a New York, una casa a Parigi, mi hanno telefonato un giorno dicendo che il giorno dopo mi sarebbero venuti a prendere con l'aereo per andare a Tel Aviv. Per loro io dovevo progettare un appartamento, quindi si lavora facilmente con loro, c'è una comunicazione facile e loro accettano anche i consigli che vogliono favorire l'immagine che ho dato al loro appartamento. Quindi non è stato affatto sgradevole, anzi è stato gradevole.